Grazie 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 Abbiamo tre squadre che si classificano a pari punti al secondo posto, cominciamo chiamando l'Atletico Borgo. Grazie. Pestanesia, Pestanesia B. Prego. Grazie. Prego le squadre di farci un gruppo tutti insieme, facciamo una foto di squadra di tutte e quattro le squadre. Ragazzi venite qua. Una foto di gruppo, grazie a tutti e quattro le squadre insieme, mi spiate. Grazie. Ringraziamo ancora le quattro squadre, sono già pronti le squadre del Girone Argento. Campo numero uno, medico SPM, Young Boys B. Campo numero due, Young Boys A, Agni Salmucca. Termini di questo incontro, premiazioni Girone Argento. Redakti, regazisteri, Ruotini. Ruotini, Ruotini, Ruotini. Raiyan, Raiyan Raiyan, Raiyan 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 Nĺ